No, scusate il ritardo, ma il traffico, sa? Eh, non ce l'è successo in tutti i colori, presidente. Eh, vieni Giovanni, sediti pure qui, eh? Ok? Eh, Mr. Berman, sorry. Stai già tardi? Eh, sorry, sorry, Mr. Berman. No problem. No, è very excited in questa campagna. So, Giovanni, dici le tue idee. Idea favolosa, favolosa. Adesso ve la illustro nel dettaglio, ok? Ma cosa c'è il doppiaggio? Perché non parli? Perché non parli? Perché è andato dal dentista. Vedi Giovanni che sei andato dal dentista? È vero? Eh, poverino, papà, eh, presidente, non parla perché poverino è andato dal dentista e quindi... Oh, aspetta, oh, wonderful, Giovanni. Questa è la lezione che noi vogliamo dalle tagli di fronte a crazy pizza. Crazy pizza! Volete un caffèlino? No, caffèlino no. Come on, Giovanni. Tu, come lasciare in Italia nostre crazy pizza? Ehi, che ne si sia gli affatti. La voglio non lanciare in Italia, sai dove gliela lanciare? Da chi è qui, 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 da chi è qui. Crazy pizza! La pizza da mangiare al dolore! This is wonderful! Crazy pizza! Pizza da mangiare al dolore! Nee! Vieni! Die f***ing d***e! La st***e! La st***e! La st***e! La st***e!